Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Teleitalia, sondaggio elettorale SVG del 25 febbraio del 2020, vediamo che la Lega di Matteo Salvini è il primo partito con il 31,3%, il secondo partito il PD di Nicola Zingaretti con il 20,1%, il terzo partito il Movimento 5 Stelle con il 13,4%, Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia invariata all'11,3%, Forza Italia alla 5,4%, Italia Viva alla 3,8%, la Sinistra MDP alla 3,3%, Azione di Calenda alla 3,1%, i Verdi al 2,3% invariati, più Europa al 2,2% e cambiamo di Totti all'1,3%, altri partiti al 2,5%, mentre chi non si esprime è il 37%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti su Youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.